Allora Andrea Luperini, stessa domanda che ho fatto al Presidente, se all'inizio stagione avessero detto alla quinta di ritorno più 11 sulla seconda in classifica, avessi firmato subito in bianco? Sicuro, è normale, vorrei vedere chi è che non avremmo firmato, fuori che noi, anche gli altri penso, insomma il campionato si sa che è difficile, è vero siamo a 11 punti di vantaggio sulla seconda e quindi è auspicabile un gran finale, ma ancora non è scritto il campionato, noi abbiamo da giocarci tante partite, le squadre verranno agguerrite come è venuto agguerrito oggi l'Uliveto, anche se secondo me la partita non ha avuto storia fino a qualche incertezza che abbiamo avuto noi, però il campionato è ancora lungo, mancano nove giornate, dobbiamo giocarsene tutte, sperando che poi alla fine i valori vengano fuori e continueranno a venire fuori come sono arrivati adesso. Ecco, come ti spieghi un po' questa battuta improvvisa di Petrasanta che è tre partite, tre o quattro se non sbaglio, che non fa più una vittoria? Ma sicuramente penso che tanto abbia influito lo scontro diretto che ha giocato qua con noi e che sicuramente era una delle armi in più che aveva per fare risultato qua, perché qua non ci scordiamo che sono venuti qua per vincere, hanno perso e sicuramente qualche cosa anche moralmente hanno lasciato. Poi ci sono anche gli infortuni, sapevo che oggi magari vincevano a zero a pareggiato, come domenica scorsa vincevano a zero a pareggiato, quindi magari qualche cosa ha lasciato anche un pochino di sfortuna. Comunque è un'ottima squadra e l'abbiamo vista qua, giocare qua, è tutto il campionato che ci dà il figlio da torgere, sicuramente continueranno a romperci le scatole, sicuro così. Ecco, tante volte si cita sempre direttore, presidente, squadra, allenatore, ma anche chi lavora dietro le quinte, tipo il preparatore atletico, che questa squadra sta bene fisicamente, sta correndo per 90 minuti, 70 minuti di grande calcio. Sì, ma non è solo il discorso, il preparatore è un ottimo preparatore, viene da parcol scenici diversi, ha fatto il professionista fino a poco tempo fa, quindi sicuramente se la squadra è in salute, è in salute anche per lui, perché è logico, è vero, che ci dimentichiamo che non c'è solo il preparatore atletico, c'è un preparatore dei portieri, c'è uno staff importante, ci sono persone che seguono la squadra dalla mattina alla sera e quindi sono tutti importanti, perché anche chi porta un calzino è importante per questa squadra qua. Siamo tutti dietro a loro, come loro ci stanno regalando qualche soddisfazione, quindi siamo contenti, stracontenti di questa partita, di questo risultato, siamo contenti di essere a 11 punti sopra la seconda e ci fa capire che abbiamo ancora più forza e che non ci rilassiamo dietro un vantaggio dei 9 punti, ma che vogliamo incrementarla ancora.